E' tragico il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla 389 Nuoro Lanusei nei presi del Bivio Perorani. Una delle due donne coinvolte, Francesca Lippi, 54 anni di Nuoro, è morta dopo il ricovero in ospedale per la gravità delle ferite riportate. L'altra donna, Francesca Più, di 42 anni, di Mamugliada, è ricoverata nel nosocomio Nuorese. Il sinistro è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 16 nei presi dello svincolo Perorani. Le due donne viaggiavano in direzione opposta a bordo di una Volkswagen Polo e di un Alfa Romeo 147. Per causa che dovranno essere accertate dall'inchiesta, le due auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato tremendo con le due donne rimaste incastrate tra le lamiere. Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto si sono recate le ambulanze del 118. L'equipe medica hanno soccorso le donne e disposto il trasporto d'urgenza nell'ospedale San Francesco di Nuoro. Francesca Lippia, apparsa subito in gravi condizioni, è stata trasportata nel nosocomio Nuorese con un elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto ha operato la polizia stradale di Nuoro che ha eseguito i rilievi, mentre i carabinieri hanno regolato il traffico e consentito il soccorso dei feriti in sicurezza. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno lavorato per estrarre le donne ferite dalle auto accartocciate. Il traffico sulla 389 è rimasto bloccato per diversi minuti. Una volta completate le operazioni di sgombero della carreggiata, la circolazione è ripresa regolarmente. Restano ad accertare le cause dell'incidente e verificare che abbia invaso la corsia. Saranno le indagini tecniche dalla polstrada ad accertare le responsabilità. Resta lo sgomento in città per questo incidente mortale che ha stroncato la vita di Francesca Lippi, che in un tragico incidente alcuni anni fa aveva perso il fratello Paolo morto sulla 131 in un'auto che aveva impattato contro una mucca incustodita.